Specchio, servo delle mie brame, chi è la più bella del reame? Che poi fa anche rima. Sì, l'ho detto apposta, rispondimi. La più bella del reame è la più... La... Allora, chi è? Posso dirlo senza parlare in rima, perché non sono molto bravo con le rime. Basta che tu ti muova, che sto invecchiando. La più bella del reame è Biancaneve. Ma come? Secondo me, sì. Ma se non l'hai neanche vista... E così è basta. No, non è possibile. Più bella di me che sono la regina. Lei è anche pura di cuore, come la neve bianca. Per questo si chiama. Sì, sì, ho capito. Ma scusa, conta anche il carattere adesso? È un po', sì. Figurati, è senza carattere, solo diviso. Chi è la più bella? Dipende dai gusti lì. Ma oggettivamente? Non lo so perché continui a chiederlo a me. Sì, ho capito, sempre lei. Mia regina. No, ho capito, è grazie. Forse se cambiassi atteggiamento e fossi più buona, saresti anche più bella. Sì, forse. Forse potrei diventare gentile. Forse potrei... Aspetta. Ma se la uccidessi? Beh, è un po' estremo. Sì, ma se lei morisse, sarei io la più bella, giusto? Che domande sono? Rispondi, specchio! Ovvio, mia regina, ma... Oh, santo cielo, a posto allora. Per un attimo ho pensato di dover lavorare su me stessa. Prima di fare azioni avventate... Eh sì, starò attenta a non farmi scoprire. Ma signora padrona... Grazie, specchio, mi sei stato molto utile. Ma aspetti... Sarò anche uno specchio, ma devo imparare a riflettere prima di parlare. Grazie, specchio, mi sei stato molto utile.